Mister, secondo tempo esaltante, primo tempo sconfortante. Sì, con tanta paura, giocata con tanta paura, si vedeva... Apprensione. Sì, apprensione, paura. Più che paura, poco coraggio, perché anche iniziando la manovra di da dietro si vedeva che stentavamo, stentavamo proprio perché eravamo un po' troppo sotto pressione. Però comunque abbiamo cercato, abbiamo cercato di finire al solito, abbiamo preso gol alla fine del primo tempo. E si è rischiato di prenderne un altro inizio della ripresa. Certo, come hanno fatto, abbiamo rischiato anche all'inizio. Sembra un refrain questo, no? Sì, di fatti. Per fortuna, pericolo scampato. Dopo invece è venuto fuori l'orgoglio, è venuto fuori la voglia anche di cercare di ottenere il massimo da questa gara, anche non solo sotto l'aspetto della prestazione, ma anche del risultato. Devo dire che forse per i 20 minuti giocati oggi, con i cambi anche effettuati, con gente fresca, brillante, veloce, che ha sfruttato gli spazi che loro... Ma anche più di 20 minuti, diciamo. Sì, vabbè, io dico da quando abbiamo cambiato, però, ripeto, il secondo tempo è stata una partita. Anche il gon all'un lato, insomma, ci poteva pure stare. Adesso il guardalini comunque ha visto una gamba avanti, diceva. No, troppo bravo, troppo... Un rilievo da varre, diciamo, no? Un rilievo da varre, però fatto da un essere umano. Però l'abbiamo accettato e siamo andati avanti e potevamo addirittura... Mister, non si può guardare la classifica? No, assolutamente, non si può guardare la classifica perché se no ne usciamo sconfortati. Io ho detto loro di guardarla soltanto e meditare, riflettere sul fatto che non meritiamo assolutamente questa classifica per come ci alleniamo, per come ci affrontiamo anche qualsiasi avversario. abbiamo sbagliato alcune partite in passato, ma credo più per degli episodi che ci siamo anche procurati noi. Però la squadra oggi ha dimostrata che è viva e cercherà fino alla fine di lottare. Allora, mister, ben rivisto qui a Giulianova. Io direi un tempo ciascuno può essere letta così? Il primo tempo potevamo far meglio, potevamo anche chiudere la partita. Poi l'abbiamo riaperta, insomma, bisogna vedere se è stata riaperta oppure l'abbiamo riaperta noi. Il primo tempo hanno dato più di quello che dovevano dare, raccogliendo diciamo meno. E allora forse si pensava che si poteva comunque portare a casa, però siamo calati. Siamo calati perché è fisiologico. Nove risultati utili consecutivi. Ma questo, insomma, da una parte fa piacere, da una parte non ci dobbiamo legare a questo perché non giochiamo per fare la striscia positiva. Giochiamo per cercare di vincere e cercare di fare una buona prestazione. La prestazione oggi è stata così così. Bisogna essere obiettivi. Però nello stesso tempo dobbiamo anche pensare che questi ragazzi in un mese e mezzo hanno fatto tutte queste partite e alcuni stanno tirando la carretta da tempo.